Elisa Longo Borghini, un'altra annata super e ormai ci hai preso gusto, devi essere tra i protagonisti della notte degli Oscar Totto Bici. Sì, io pedalo solo per la notte degli Oscar, scherzo a parte, è per me un onore essere qui questa sera, è un premio prestigioso e sono molto contenta di riceverlo per il secondo anno consecutivo. Sei stata un po' in vacanza e adesso si riprenderà a pedalare per un altro anno? Sì, adesso è decisamente ora di ripartire, ho già iniziato un pochino di preparazione in palestra e tra poco ricomincerò in bicicletta.